Buonasera amici e bentornati sul canale. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi iscritti che mi supportate e che mi lasciate like. Vi ringrazio davvero tanto perché la pagina, diciamo, è anche fresca per quello e sta crescendo abbastanza bene. Abbiamo quasi raggiunto i 150 iscritti, quindi vi ringrazio e vi chiedo sempre di iscrivervi ai neo nuovi iscritti e di continuare a lasciare like. Oggi sono passato a GameStop a prendere questi tre blister, ognuno con la sua relativa promo di Lake Kong, che ne ho già parecchi. E vabbè, è un po' un furto perché costa 24 euro questa collezione, cioè alla fine ci sono tre pacchetti e è una promo. In più ci hanno messo la spilletta, che rispetto agli altri blister la considerano una cosa da 4-5 euro, ma non lo è. Quindi sì, è un po' un furto, però c'è da dire che ne sento parlare bene, dicono che si pulla al mondo dentro queste cose, quindi anche perché comunque mi piace spacchettare tutti i prodotti e allora perché no? Perché non prenderli anche noi? E abbiamo il codicino per voi, la spillettina di Inteleon, la promo ultra imbarcata di Inteleon, bellissima olografia, bella carta. Già che ce n'erano parecchie mi sono cercato le più centrate, chiaramente. E guarda, visto che le apro tutte e tre, metto la promo in alto e i pull sotto, così vediamo anche qual è quella che pulla meglio. Il mio fornitore è sparito, non so più dove dice che sono i miei prodotti, fatto sta che è da tanto tempo che mi deve mandare ancora cose, infatti pensavo di cambiarlo perché mi sento un po' preso per il culo. Infatti come vedete ultimamente sto andando un po' a Poliregina, un po' a GameStop per portare avanti i video, anche se chiaramente i prezzi sono abbastanza elevati, però dai. Un Bidoof GG29 e sotto abbiamo un Chiogreolo. Quindi primo pacchetto, i primi due pullettini sono arrivati. Andiamo con il secondo pacchettino, sempre il codicino per voi. Trick da quattro perché siamo su espansioni vecchie. Girafarig, Pinkurkik, Paunyard, Cricketot, Chatot, Mr. Mine, Bigalar, Sankern. Ah, ho trovato finalmente il Charizard, che mi mancava ragazzi. Lo considero un pull molto bello. E sotto abbiamo un Perserker, che schifo. Bene, abbiamo trovato finalmente il Charizard. Sì, ho trovato due volte il Charizard e ancora mi doveva uscire questo maledettissimo Charizard. Ora devo trovarne un altro per forza perché mi serve uno per il Master Set di Zenitregale e l'altro per l'album delle Lucenti. Quindi me ne servono almeno due. Tra parentesi, se qualcuno di voi fosse di Trento e volesse far scambi fisicamente, può lasciarmi qua sotto nei commenti, che poi ci si trova e ci si trova a far scambi, molto volentieri. O se qualcuno avesse una grande quantità di Lucenti da vendere, io le compro tutte. Le compro tutte, praticamente. Quindi, se siete di Trento e volete far scambi fisicamente, scrivetemi. O scrivetemi anche se avete una grande quantità di Lucenti da vendere fuori e possibilmente ai minimi car market. Secondo pacchettino vuoto. Ah, terzo pacchettino vuoto. Quindi dai, dal primo blister, dal prezzo di 24€, mi è uscita una GG e una Lucente. Una Olo e la Olo Promo. Quindi col primo siamo andati brutalmente in perdita. Li sto prendo in ordine di preferenza, dei miei preferiti. Ho aperto prima l'Intelion, che è quel mix che mi sa più brutto. Ora andiamo con Cinderace. E mi sono tenuto il Rillabum, che preferisco per ultimo. Sperando che mi porti fortuna. Allora, spillettina. Molto piccola e striminzita. Però carina. Ci vuole un po' la lenta a contatto per vederla. Abbiamo il codicino per voi. Se lo riscattate, se no va buttato. Vabbè. La Promo. Imbarcata, ma comunque messa benissimo anche questa. E andiamo col primo pacchettino. Ho ricevuto ieri della posta molto golosa. Però l'ho già aperta e guardato quello che c'era dentro. Perché ero curioso, ovviamente, anche per dare una risposta a quello di Carmarket, dirgli che sono arrivate. Farò un video a poche poste, però aspetto altri due pacchi che mi devono arrivare. Così faccio un video unico in cui vi faccio vedere un po' tutto. Comunque mi arrivano cose molto golose. Restate sintonizzati. Oppa reverse e ora un guru raro. Non sta andando tanto bene, ragazzi. Assolutamente no. Però, mai dire mai. Amici di Simno. Gloom. Ultrapool. Sunkern. Bidoof. Coffing. Salandit. Purloin. Ho 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 ho. L'ho appena detto, sì? Ma porca troia, ce l'ho già, non potevo beccare una delle altre. Bene, ragazzi. È uscito un'altra volta l'Arceus. Quindi a questo punto è doppio. Se a qualcuno di voi interessa, è un buon materiale di scambio, si può dire. Quindi non esitate a contattarmi in caso fosse interessati all'Arceus. Non me l'aspettavo. Se avevo quella puzza da busta vuota, invece è uscito un bellissimo pool. Quindi già con questo, se sta ancora sui 100 euro, mi sono ripagato i 71 euro spesi da GameStop. Se sta ancora alto, perché da quando l'ho trovato non lo tengo più d'occhio come prezzo. Perché se l'ho non mi interessa. E boh. Abbiamo Enamorus Reverse. E sotto un Wylord raro. Bene. Per ora sta vincendo, brutalmente, il blister di Cinderace. Cinderace. E andiamo con Rillaboom. Che se mi porta la fortuna che spero che mi porti, questo video diventa una bella figata, ragazzi. Mamma mia. Come si aprono sti cosi. Questa è gigante. Ma che bella quella è Rillaboom. Ok. Abbiamo la nostra bellissima Olo, promo. Questa è la più bella di tutte per me. Sia come artwork che come Pokémon. A parte che, diciamo, di questa generazione non vado matto come a livello di starter. Però vabbè. Penso che sia quella un po' di tutti. Sono comunque magari un po' meglio di quelli appena usciti adesso con Violetto e Scarlatto. A parer mio. Però lo stesso non vado matto. Fratelli Vange. Girafarig. Pinkurkic. Korpish. Oddish. Sil. Kriketot. Aaron. La reverse è Sphinx. E sotto un Rayquaza V-Max. Bene. I pull stanno uscendo. Io sono già soddisfatto con l'Arceus. Però lo stesso si sa che non ne abbiamo mai abbastanza di pull. Quindi se mi esce altro va benissimo. Electric. Trolley. Grubin. Screlp. Wulu. Kelly of Tile. Pancia. Marep. GG34. Va bene. Mi piace. E Oranguru. Due pacchetti e due pull. Va bene. Andiamo col terzo pacchetto. Che è quello col pull migliore? Vero? Speriamo. Energia. Gloom. Megaball. Graveler. Kriketot. Shinx. Mr. Mindy Galar. Sunkern. Koffing. Bellissimo. Questo mi mancava al 100% perché mi piace un sacco e non l'avevo ancora trovato. Altaria GG19. Altaria GG19. Ottimo. Mi piace un sacco. E Volcarona raro. Bene amici. Per questo video è tutto. Chiaramente ha vinto il blister di Cinderace. E oltretutto devo dire che il primo che avevo preso in mano non era tanto centrato e quindi l'avevo cambiato con questo che aveva la promo un po' più centrata. Quindi probabilmente mi è andata pure bene perché magari nell'altro non c'era niente o magari c'era il giratina. Chi lo sa. Per questo video è tutto quindi vi chiedo cortesemente di lasciare un like e iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo spacchettamento o alla prossima poche posta più probabilmente. Ciao ragazzi.